La carenza di medici non risparmia neppure le principali località turistiche italiane e la Toscana non fa differenza. Molti presidi sanitari e turistici sono rimasti chiusi o aperti a singhiozzo per la carenza di personale medico, nonostante vari avvisi dell'ASLA, generando non poche difficoltà a residenti e vacanzieri. A confermarlo il direttore dell'ASLA Toscana Sud-Est, Antonio Durzo. La difficoltà a ripetire i medici di guardia medica è analoga a quella che incontriamo per ripetire i medici di guardia medica ordinaria o per altre attività sanitarie. In aggiunta si tratta di medici che una volta avevano un ruolo stagionale, quindi venivano assunti solo nei mesi estivi. La funzione per contratto è garantita dai medici di famiglia. Noi abbiamo fatto nella provincia di Grosseto tre bandi nella ricerca di reclutare personale, eravamo disponibili anche a pagare questi professionisti in aggiuntiva, quindi con gettoni economicamente più impegnativi, ma non abbiamo trovato disponibilità. Il servizio di guardia medica turistica è assicurato, così come stabilisce il contratto, dai medici di famiglia. Evidentemente si tratta di un gruppo di professionisti che sono gravati da un numero di scelte, del 1.800, non tutti, ma certo una buona parte, che rende abbastanza difficile poter assicurare anche l'assistenza ai turisti. Questa è una realtà che interessa tutte le zone turistiche d'Italia e questo è il motivo per cui probabilmente si accelererà nella riforma della guardia medica e della guardia medica turistica con la trasformazione in H16.